Il tuo cuore batte troppo forte, cerca di calmarti. Cos'è che ti spaventa? Io ho ascoltato il silenzio, maestro. Ho sentito tutto il mio essere fluttuare, come una nuvola. Poi la pioggia è caduta dal cielo, attraversandomi. Mi sono sentito parte di tutto, pur restando me stesso. Tu hai scoperto la tua identità. Sì, maestro. Ma in questa grande gioia io... Io mi sono sentito morire. Questo mi ha spaventato. Conosci la mutazione del baco da seta? Sì, il verme muore e la farfalla vive. Eppure non sono due creature separate, ma una in due. Avviene lo stesso nell'uomo. Le sue false convinzioni devono morire affinché possa conoscere la gioia della sua vita. Ciò che tu hai udito nel silenzio è vero. Qualcosa in te sta morendo. E questa cosa si chiama ignoranza.